è l'11 aprile 2018 a Uffanengo, Cremona e Just a Few Images è a Radio Croda siamo con Sam the Nomad, ideatore e conduttore del programma Red Wine Smoking Club ciao Sam, come stai? ciao brutta gente, beh allora, a parte il fatto che siamo a 127 puntate di questo programma irreverente e ignorante direi che mi sono un po' rotto i coglioni si va un po' di merda da queste parti grazie